Mi trovo a Taranto in via Regina Margherita, quasi ad angolo con via D'Aquino, quindi proprio a due passi dal ponte girevole e qui si consuma una situazione scandalosa. Guardate, questo parcheggio delimitato dalle strisce blu è adibito al carico e scarico, ma come vedete l'insegna, il disegno, l'immagine raffigurante, il carico scarico è praticamente scolorita. Ma passi, chiudiamo anche gli occhi su questa situazione. L'aspetto grave è che il cartello l'insegna indicante il carico scarico tra le ore 17 e le ore 14, e quindi il divieto di sosta per gli automobilisti, per i cittadini, è praticamente poco visibile. Non ci si accorge di questo cartello, non ci si accorge del carico scarico. Per cui io tranquillamente la mattina parcheggio la macchina qui, non riesco a vedere il disegno, l'immagine, vedo le strisce blu e parcheggio tranquillamente. Non posso sapere, non riesco a vedere il cartello che è ben distante da qui e che non è visibile. Diverso sarebbe stato se il cartello, il paletto fosse stato messo qui e una persona parcheggia, si rende conto del cartello ed evita appunto di parcheggiare e va via. Bene, nonostante questa assurdità, i vigili urbani continuano a fare le multe, fioccano le multe per i malcapitati automobilisti che, lo ripeto, sono ingannati da una insegna che di fatto è ingannevole. Io parcheggio, non vedo nulla, non posso vedere, non posso sapere che lì c'è il parcheggio perché non è assolutamente vicino. Mettetelo qui, Ciraci, Assessore alla Polizia Municipale, Sindaco Melucci, intervieni pure tu, Comandante dei Vigili. Cosa ci vuole ad intervenire? Perché qui ogni mattina, ogni giorno c'è una strage di automobilisti, una strage di multe. E' una situazione ingannevole per gli stessi. E allora, prima di mostrare i muscoli ingiustamente e in un certo modo ingannevolmente nei confronti degli automobilisti, non sto dicendo che voi fate questo per ingannare gli automobilisti, ma certamente c'è un deficit di organizzazione, un deficit appunto nel collocare i paletti. E' su via, non siamo, come dire, limoni da spremere. Il cittadino non deve essere trattato in questo modo. Immaginate anche il povero turista che immagine si fa di Taranto, di una situazione certamente ingannevole. Allora, caro Ciraci, visto che ti piace fare tanto lo sceriffo e fare gli show, ti devo insegnare come devi comportarti in certe situazioni. Non ti offendere, ci conosciamo da tanti anni, ti voglio bene, ma le cose te le devo dire. Metti un cartello qui, il paletto, lo sposti e lo metti qui. E così la gente capisce che c'è il carico-scarico. E' così difficile Melucci? E' così difficile Ciraci? E' così difficile comandante della Polizia Municipale? Prima dicevo questo da giornalista, ora lo dico da consigliere comunale. Sì, mi vesto di autorità e pretendo che il paletto sia spostato. Lo pretendo! Mettetevelo in testa. Altrimenti continuerò anche nelle sedi opportune.